partita quindi la batteria 4 prima delle tre teste di serie chiara convento alla 4 al terzo miglior tempo di iscrizione presentiamo la prossima la quinta e penultima con Mie Bizzela alla 1 Teacadio alla 2 Emi Scolastra alla 3 Anna Marcotti alla 4 Rebecca De Rosa alla 5 Martina Biasioli alla 6 Vittoria Schincariola alla 7 Lisa Marcer alla 8 Magoga passa in 28 e 34 8 centesimi Vittoria Urbanetto 28 e 42 chiara convento anche lei lì vicina 28 e 46 Urbanetto che scavalca nella seconda parte di gara le avversarie quindi si va a prendere questa batteria 58 e 30 per lei su Magoga 58 e 95 e convento 59 e 46 Irrando!